la bestia di padron belom la diligenza per le avre stava per lasciare crichelò nel cortile dell'albergo del commercio gestito da malandà in figlio i viaggiatori aspettavano di sentir gridare i loro nomi per prendere posto era una vettura gialla montata su ruote gialle d'un tempo anch'esse ormai diventate grigie dal fango le ruote anteriori erano piccolissime su quelle di dietro alte e meno tozze poggiava la cassa del veicolo deforme e gonfia come un ventre d'animale dovevano tirare lo strano veicolo che nella struttura e nell'andatura aveva qualche cosa del mostro tre brenne bianche che si facevano subito notare per la testa enorme e i grossi ginocchi tondi attaccate di punta parevano addormentate cesar corlaville il conducente panciuto eppure agile per il continuo esercizio di arrampicarsi sulle ruote e dar la scalata all'imperiale il viso arrossato dall'aria aperta dalle intemperie dai cicchetti gli occhi che ammicchiavano continuamente per l'abitudine fatta alla pioggia e alla grandine apparve sulla porta dell'albergo asciugandosi la bocca col dorso della mano ai piedi di due contadine ferme e in attesa c'erano due larghe ceste tonde piene di pollame aterrito una dopo l'altra cesar corlaville le tirò su e le hissò sul tetto della vettura poi con maggiori riguardi vi sistemò quelle di uova e su tutto buttò dal basso qualche sacchetto di grano e dei fagotti involti in pezzuole in tela o in carta poi aprì lo sportello posteriore e tolto un elenco di tasca fece la chiamata dei passeggeri il signor parroco di georgeville il prete si fece avanti un pezzo d'uomo tarchiato tozzo e grosso paonazzo ma d'aspetto affabile per salire si rimboccò al modo delle donne la sottana e si arrampicò nell'interno il maestro di scuola derò le bosque le grine il chiamato si affrettò lungo timido chiuso sino ai ginocchi nel lungo giaccone e sparì a sua volta dietro lo sportello aperto padron puore due posti venne avanti puore lungo e storto ingobbito dall'aratro dimagrito dall'astinenza ossuto con la pelle disseccata a forza di non lavarla lo seguiva la moglie piccola magra simile a una capra teneva con due mani un immenso ombrello verde padron rabò due posti rabò esitante di natura titubò chiese chiami me il conduttore lingual est di nomignolo stava per rispondere con un motteggio quando rabò partì capo avanti verso l'entrata lanciato dentro da uno spintone della moglie un donnone di pochi scrupoli alta e atticciata dal ventre a botte dalle mani a spatola dalla vandaia e rabò filò nella vettura come un topo dentro il buco padron canivò un grosso contadino più pesante d'un bue single folle interno facendo gemere le balestre padron belom uno magro alto si fece avanti col collo storto l'espressione sofferente premeva un fazzoletto sull'orecchia come soffrisse d'un forte mal di denti tutti indossavano sugli abiti curiosi abiti di foggia antiquata di panno nero verdastro che solo per le strade di leavra avrebbero messo in mostra il camiciotto turchino e in capo calzavano dei berretti di seta alti come torri che nella campagna normanna rappresentavano il non plus ultra dell'eleganza orlavil chiuse lo sportello della sua scatola salì in serpa e schioccò la frusta i tre cavalli parvero uscire dal sonno e scuotendo il collo fecero sentire un vago tintinnio di sonagli allora il conducente gridando iii con tutto il fiato abbraccio disteso frustò gli animali si scrollarono si puntarono arrancarono a un piccolo trotto lento e zoppicante dietro loro il veicolo smovendo i carrelli malfermi e la ferraglia delle balestre produceva un curioso rumore di vetri e di latta mentre ogni fila di passeggeri sballottata nei due sensi dagli scossoni aveva ad ogni sobbalzo flussi e riflussi d'onda da principio fra i passeggeri regnò il silenzio la presenza del parroco inquotendo soggezione impediva le effusioni ma fu lui il parroco uomo alla buona eloquace di carattere a dar la stura ai discorsi ebbene padron canivò state bene sorridendo l'enorme campagnolo e la somiglianza di corporatura di portamento e la pancia legavano di simpatia all'ecclesiastico rispose non c'è male signor parroco non c'è male e voi oh per me va bene sempre e voi padron puoi re oh andrebbe bene non fosse il colza che non mi renderà niente quest'anno e quei tempi che corrono è sul colza che ci si rifà tempi duri che volete se sono duri rincalzò con voce di gendarme la grossa moglie di padron rabò non essendo costai del posto il parroco la conosceva solo di nome siete voi la blondel le domandò sì sono io la blondel che ha sposato rabò rabò mingherlino timido e soddisfatto salutò sorridendo con un grande inchino sembrò dire sì sono io rabò che ha sposato la blondel padron bellom che continuava a premersi il fazzoletto sull'orecchio improvvisamente si mise a gemere da far pietà e metteva guaiti pestava il piede per esprimere quanto soffriva è un gran mal di denti che avete chiese il parroco il contadino smisce di gemere per rispondere no mica signor parroco non i denti sono è l'orecchio che è in fondo all'orecchio che ci avete nell'orecchio un ascesso mica so io se è un ascesso è una bestia so una grossa bestia che mi c'è entrata dormendo sul fieno del granaio una bestia siete sicuro se sono sicuro come nel paradiso signor parroco mi mangia la testa ecco cosa la testa mi mangia e riprese a pestare il piede una gran curiosità nasceva intorno tascuno diceva la sua poré voleva che fosse un ragno il maestro di scuola propendeva per un bruco già una volta gli era capitato di vedere un caso simile a campe mure su rorn dove era stato sei anni quella volta persino il bruco era penetrato nella testa e uscito dal naso e l'uomo era rimasto sordo da un orecchio perché il bruco gli aveva forato il timpano sarà un verme piuttosto opinò il parroco padron bellom continuava a zemere con la testa piegata da una parte appoggiata allo sportello ai 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 io direi che è una formica un formicone tanto mi morde ecco signor parroco galoppa galoppa oioioi povero me ci sei stato dal medico mi chiese canivò fossi matto e perché lo spauracchio del medico sembra guarire bellom si mise in piedi senza tuttavia togliersi dall'orecchio il fazzoletto perché mi domandi ne hai dei soldi tu da dare a loro a quei fannulloni là mi sarebbe toccato andarci due tre quattro cinque volte che fa due scudi da cento soldi due scudi perlomeno e che avrebbe fatto dimmelo quel fannullone dimmelo che cos'è che avrebbe fatto lo sai tu io no canivò rideva e così dove vai allora vado alle havre la chambrélane quale chambrélane quello che guarisce chi quello che guarisce quello che ha guarito mio padre tuo padre sì mio padre anni fa e che aveva tuo padre del vento nella pancia aveva da non poter più muovere né piede né gamba e che gli ha fatto il tuo chambrélane gli ha palpeggiato la schiena come a fare il pane a due mani ecco che gli ha fatto e in un paio d'ore gli è passata bellom avrebbe aggiunto che in quell'occasione chambrélane aveva anche pronunciato delle parole ma davanti al parroco non ebbe il coraggio ridendo canivò disse non sarà per caso un coniglio che c'hai nell'orecchio boscoso com'è il buco del tuo orecchio l'avrà scambiato per la sua tana aspetta che lo faccio scappare e canivò facendo imbuto delle mani presa a imitare le voci di un cane in caccia la trava ululava uggiolava abbaiava tutti nella vettura si tenevano le costole dal ridere persino il maestro di scuola che non rideva mai ma poiché bellom dava segno di risentirsi il parroco sviò il discorso volgendosi alla moglie di rabò ne avete parecchi di figli è vero voi oh sì e ce ne vuole a tirarli su rabò assentiva se ce ne vuole pareva dicesse quanti autorevolmente con voce forte e sicura la donna dichiarò sedici figli signor parroco quindici dal mio uomo e rabò aprì il volto a un più largo sorriso salutando con la fronte quindici ne aveva fatti lui il rabò da solo lo affermava sua moglie non poteva dubitarne egli ne era fiero perbacco allora il sedicesimo e cioè di certo il primo da chi l'aveva avuto la donna non lo disse forse si sapeva perché nessuno si incuriosì neanche canivò mosse ciglio ma bellom riprese a gemere mi buca il fondo dell'orecchio povero me siccome in quel momento la vettura si fermava davanti al caffè polit il parroco propose e se vi versassimo un po d'acqua nell'orecchio forse la staneremmo codesta bestia volete provare certo che voglio e tutti discesero per assistere all'operazione il prete chiese una catinella una salvietta e un bicchier d'acqua incaricò il maestro di scuola di tenere ben inclinato il capo del paziente ed entrata l'acqua nell'orecchio di rovesciarlo di colpo ma canivò che ispezionava con gli occhi l'orifizio per scoprirvi la bestia gridò caspita che marmellata bisogna prima stapparlo il tuo orecchio vecchio mio se no il tuo coniglio non se ne staccherà mai mi resterebbe attaccato con tutte e quattro le zampe il curato esaminò a sua volta l'orifizio quasi intasato dal cerume era troppo angusto per espellerne la bestia fu il maestro di scuola a sbarazzar la strada con un fiammifero e uno straccetto allora fra l'ansietà generale nel condotto così ripulito il prete versò mezzo bicchiar d'acqua che si spanse sul viso nei capelli e sul collo di bellom quindi il maestro di scuola rovesciò il capo sulla catinella bruscamente quasi volesse sviarlo nel bianco recipiente qualche goccia cadde i passeggeri si presero a spintoni per vedere nessuna bestia ne era uscita tuttavia siccome bellom diceva ora non sento più nulla c'è di certo annegata esclamò il parroco trionfante tra la soddisfazione generale si risalì in vettura ma il veicolo si era appena rimesso in cammino che bellom riprese a strillare più forte di prima la bestia ridestatasi diventava furiosa ora anzi bellom sosteneva che gli era entrata nel capo e che gli divorava il cervello urlava contorcendosi in un modo che la moglie di puore si mise a piangere e assegnarsi poi calmatoci un po il dolore l'ammalato precisò che la bestia gli stava facendo il giro del cervello indicava col dito il cammino della bestia pareva che la vedesse che la seguisse con gli occhi eccola qui che risale oi 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 povero me canivò non si teneva è l'acqua che la mandata su tutte le furie forse se la fa meglio col vino cotesta bestia si rise canivò aggiunse dalle dell'acquavite e di quella quando arriviamo al caffè bourbeau non si muoverà più parola mia ma bellom non reggeva più al dolore si mise a gridare come se gli cavassero l'anima il parroco doveva sostenergli il capo pregarono for la ville di fermare alla prossima casa era una fattoria sulla strada vi portarono bellom di peso lo stesero sulla tavola di cucina per ricominciare l'operazione canivò insisteva che si mescolasse all'acqua un po di acquavite ubriacherebbe e addormenterebbe la bestia forse anche la ucciderebbe ma il parroco preferì mescolarvi dell'aceto questa volta la medicina fu fatta colare goccia a goccia nell'orecchio abitato perché impenetrasse bene in fondo e vi fu lasciata qualche minuto poi fatta recare un'altra bacinella i due colossi il parroco e canivò rovesciarono bellom come un salame mentre il maestro di scuola batteva col dito sull'orecchio sano per vuotare bene l'altro anche se sarò la villa la frusta in mano era entrato a vedere ed ecco apparire in fondo alla bacinella un puntolino oscuro non più grande ed un seme di cipolla un seme che si muoveva una pulce sorse l'esclamazione di stupore quindi vi fu uno scoppio generale di larità una pulce questa sì che è buona canivò si dava manate sulla coscia or la ville fece schioccare la frusta il prevosto dal modo in cui rideva pareva un asino che raglia il maestro di scuola sembrava star nutisse e le due donne gettavano piccoli strilli simili a un chiocciar di galline belom seduto sulla tavola con la bacinella sulle ginocchia contemplava con assorta gravità e con gioia feroce la bestiola debellata che si muoveva nella sua goccia d'acqua carogna ci sei brontolò e ci sputa sopra il conduttore ammattito d'allegria ripeteva una pulce una piccola pulce ci sei pulce maledetta maledetta pulce poi chetato si su su in viaggio se ne è perso di tempo e continuando a ridere i passeggeri si avviarono verso la vettura belom che veniva in coda annunziò io me ne torno a crichelò ormai non c'ho più nulla da fare alle havre fa pure ma prima paghi il tuo posto ne pago la metà la metà del cammino io non l'ho fatta tutto paghi tutto paghi il posto hai fissato per tutto il viaggio cominciò una disputa che presto trascesa in lite furiosa belom giurava che più di venti scudi non avrebbe sborsato cesar cornaville che ne avrebbe avuti 40 gridavano tutti e due a chi più naso contro naso gli occhi negli occhi canivò smontò di vettura anzitutto tu ne devi 40 prevosto capisci di soldi a tutti poi devi da bere e fanno 50 e 20 li dai a cesar dico bene lingualesta il conduttore con la prospettiva di vedere belom sborsare 75 soldi accettato disse allora paga non pago un corno intanto il prevosto non è un medico se non paghi ti rimetto in vettura ti porto alle havre e il colosso impugnato belom alle reni lo sollevò come un bambino belom capì che bisognava cedere e pagò quindi la vettura si rimise in cammino alla volta di le havre mentre belom riprendeva la via di crichelò e tutti i passaggeri chietatesi ormai guardavano in silenzio il camiciotto turchino di lui allontanarsi per la strada biancheggiante bilanciato sulle lunghe gambe grazie a tutti